Ora spegniamo la sonda della telecamera e facciamo una prova con la sonda remota per dimostrare quanto semplice e quanto facile sia localizzare la sonda. Accendiamo la sonda, prima di accendere ovviamente inseriamo la batteria, non ci possiamo sbagliare perché sulla sonda sotto l'etichetta è riportata, come vedete qui sotto, è riportato il senso della batteria, noi andiamo ad inserirla, a chiudere, ecco abbiamo acceso la sonda remota, per averla a prova del funzionamento vediamo che sta lampeggiando un led rosso in testa alla sonda. Per fare una prova di funzionamento e anche per dimostrare la facilità di utilizzo del localizzatore lo andiamo a posizionare a terra, questo è un esercizio che io faccio spesso quando voglio fare la formazione per l'utilizzo del localizzatore in modo che sia visibile e sappiamo dove andare a cercare. Ci posizioniamo in qualsiasi punto a una distanza di 2-3 metri, facciamo finta di non sapere dove si trovi la sonda e ovviamente la sonda e il localizzatore sono sincronizzati, io guardo il quadrante, ovviamente lungo la circonferenza del quadrante io ho una sorta di asterisco e questo significa che il polo più vicino è in questa direzione, quindi in questo caso rispetto alla mia posizione l'asterisco è a ore 10 circa, quindi io vado in quella direzione fino a che il centro, seguimi ferruccio, entra all'interno del quadrante e viene posizionato al centro della, fino a che io non vado appunto a colpire il quadrante, ecco in questo caso io ho individuato uno dei due poli del del trasmettitore, vado a marcarlo, ovviamente qui io ho l'antenna più bassa del ricevitore circa 30 centimetri, do per scontato che la sonda sarebbe posizionata circa in profondità, quindi non certo a livello del pavimento, vado quindi a posizionare una delle due placchette rosse in corrispondenza del punto in cui si trova il segnale, vado a cercare l'altra sonda, so che mi devo spostare verso sinistra però per avere una prova io mi sposto verso destra, vedo che l'indicatore di segnale tende sempre a diminuire, il che significa che io mi sto allontanando, quindi ritorno sul punto dove avevo individuato la sonda, vedo appunto che le due linee parallele mi danno la direzione della tubazione, mi sposto dall'altra parte, ecco che intravedo l'equatore però il mio obiettivo adesso è cercare l'altro polo, lo trovo in questo istante, lo centro e lo marco con il secondo, con il secondo, con la seconda placchetta rossa, nel mezzo ci sta la sonda, ovviamente io la sonda la vedevo però in questo caso mi sono fatto guidare non dalla vista ma dal display, quindi io mi posiziono al centro tra i due poli, trovo in questo caso il mio equatore e qua lo strumento adesso mi dice che la sonda è proprio sotto l'antenna del mio localizzatore, ha una profondità di 39 centimetri. La prova che io sono sul punto giusto sta nel fatto che vedo le due linee parallele che corrispondono alla tubazione e trovo i due poli, se fossi sullo stesso asse, quindi più a destra o più a sinistra, come in questo caso, vedi ferruccio, io trovo sempre i due poli, trovo sempre l'equatore ma in questo caso significa che io non sono allineato con la sonda, per cercarla ovviamente mi devo avvicinare e a un certo punto troverò i due, ecco qua, quando io trovo queste due linee vuol dire che mi trovo sopra la sonda e allineato con la stessa, quindi deve essere una, il segnale deve fare un angolo a 90 gradi con l'asse del localizzatore e la direzione della tubazione devono fare intersecarci a 90 gradi. Ecco, questo è per dimostrare la semplicità e la facilità d'uso del localizzatore SR24 con un display molto più ampio, molto più semplice dello scout. La placchetta gialla serve per marcare la posizione della sonda che in questo caso io ce l'ho a vista ma se fosse in profondità io sono in grado di dire che la sonda si trova sotto questo punto, in questo caso in questo istante a 39 centimetri.